Ben ritrovati nel regno delle bontà, quindi nel regno di Qui da Noi, che certifica i prodotti di assoluta eccellenza del Piemonte, come ad esempio i formaggi. Rossana Turina è vice presidente di Fedagri Piemonte. Qui da Noi certifica molto volentieri anche il segmento dei formaggi che in Piemonte è molto nutrito, molto numeroso. Assolutamente, infatti anche i formaggi, come per esempio i vini, hanno fatto da traino per questo che è il nostro progetto. Questi formaggi ad esempio si trovano già presenti in tutti i punti vendita qui da Noi, quindi questo è molto importante e significativo. Gli spacci sono uno dei punti di forza del progetto qui da Noi, vogliamo ribadirlo ancora una volta perché la gente si può rivolgere ai punti vendita qui da Noi per trovare questa eccellenza, anziché vederle solo in televisione. Certo, questo è anche il nostro obiettivo e insomma è auspicabile che vedendoci in televisione poi venga la curiosità e l'interesse di cercare i punti vendita qui da Noi, che potete identificare sul nostro sito www.quidanoi.cop in modo da arrivarci il prima possibile. E conosciamo brevemente, ma speriamo in modo approfondito, il direttore del caseificio cooperativo Valle Iosina di Peveragno, quindi siamo in provincia di Cuneo, Oscar Giordano. Benvenuto a questo spazio, presentiamo in estrema sintesi un po' la storia della vostra cooperativa, quanti soci siete e i formaggi che avete portato qui che sono massicci, importanti, insomma anche dal punto di vista figurativo. Assolutamente, il caseificio Valle Iosina è una cooperativa storica, è stata costituita nel 1966 ad opera di 29 produttori e allevatori della zona che avevano difficoltà a collocare il loro latte proprio per la posizione strategica della nostra cooperativa che è l'appendici delle montagne, quindi diventava sconveniente per le industrie locali andare a ritirare pochissimi quantitativi di latte, per cui è nato come centro di raccolta e quindi veniva raccolto il latte e veniva poi convogliato in altri stabilimenti e questo era reso più facile da una massa un pochettino più interessante. Quanti soci siete attualmente? Attualmente siamo circa un centinaio di soci conferenti, ma ci sono stati anni, negli anni 90, dove contavamo 750 soci. Questo perché nel corso degli anni c'è stata una metamorfosi, un cambiamento abbastanza importante dove chi ha deciso di puntare sulla produzione del latte l'ha fatto in maniera organizzata, imprenditoriale e chi invece faceva un po' di uno e un po' dell'altro ha scelto magari altre strade. Poi c'è stato un inaspiramento delle normative igienico-sanitarie che sicuramente ha fatto sì che chi era avvocato alla produzione di latte dovesse strutturarsi anche con impianti e attrezzature di una certa levatura per cui servivano investimenti. Ha scoraggiato le improvvisazioni. Presentiamo brevissimamente i formaggi in chiusura di questo spazio. I formaggi sono i quattro formaggi DOP che il caseificio Valle Iosna produce, tra l'altro il caseificio Valle Iosna è il maggior produttore di questi formaggi. Sono formaggi DOP, quindi denominazione di origine protetta, hanno un riconoscimento a livello comunitario. Braduro è braduro di alpeggio, perché il nostro è un braduro di alpeggio, è fatto con un latte crudo, quindi una stagionatura prolungata almeno sei mesi. Poi abbiamo il raschera, che ha una peculiarità non solo per la forma quadrata, ma proprio per l'attipicità, il profumo e l'aroma di questo tipo di formaggio. Il tomo piemontese è quello che può essere prodotto in una zona decisamente più ampia, perché si può produrre in tutto il Piemonte, mentre gli altri hanno un'area geografica più circoscritta. E il bratenero, che è sempre della famiglia del bra, però è fatto con latte pastorizzato, una stagionatura di 45 giorni. Quindi grandi formaggi per i gusti degli appassionati, anche di chiama il formaggio, che è molto buono, molto goloso, attira molto. Ringraziamo il direttore del caseificio cooperativo Valle Iosina di Peveragno Oscar Giordano, ringraziamo Rossana Turina che ci fa da spare in partner in tutte queste puntate. E vi diamo appuntamento proprio un altro spazio qui da noi per conoscere le peculiarità, le eccellenze e le bontà gustose del nostro Piemonte.